Quali sono le cose più importanti che questo governo in parte ha fatto e in parte vuole fare verso la piccola impresa artigiana? Diciamo che siamo proprio partiti da qua. Il senso della manovra di bilancio è quello di rimanere vicino ai piccoli. Prima durante il convegno dicevo flat tax fino a 65 mila euro di reddito, il 15% di tasse dal 2020 fino a 100 mila di reddito, il 20%, proprio a partire dai piccoli perché crediamo che siano quelli che hanno sofferto di più questi anni di crisi. Paolo Boldeni è sempre presente qui sul suo territorio. Questa mattina per dire sì, noi siamo all'opposizione come governo, ma naturalmente io rappresento gli interessi ferreresi, le piccole e medie imprese in modo particolare e perché? Ma perché credo che sia un tessuto importante sociale quello delle piccole imprese, perché l'artigianato poi rappresenta queste imprese dove ci sono uno o due addetti, non di più, e credo che sia importante perché è una fetta del nostro territorio, insomma che porta avanti un'economia con tanta fatica, perché lo hanno detto prima gli artigiani, perché è con grande passione. Io in questo mi condivido perché anche la politica è grande passione e quindi essere sempre presenti ovunque è una grande fatica, ma lo si fa davvero perché vorrei portare ed aiutare queste persone, quindi sono qui per ascoltare soprattutto.